Tutti i cittadini di fronte ad uno sportello bancario devono avere lo stesso trattamento, quindi che sia Monte dei Paschi che sia Banca Etruria, questo è basilare garantito dalla Costituzione. Continuano a sollevarsi le richieste di equità di trattamento tra i risparmiatori di Banca Etruria, zerati dal decreto salvabanche i bondisti del Monte dei Paschi di Siena. Sulla questione ora interviene anche il segretario provinciale del Partito Democratico, Massimiliano Dindalini. Dindalini, che ha definito questa disparità di trattamento una triplice ingiustizia. Nel senso che riguarda sia gli azionisti, in quanto quelli di Banca Etruria, hanno perso ogni valore, non hanno possibilità di vederlo maturare nel tempo, cosa che invece su Monte dei Paschi non è stata possibile. Ad Arezzo abbiamo perso una banca, perché di fatto è in vendita e non sarà più nel territorio. Mi auguro che vengano tutelati i posti di lavoro, soprattutto il direzionale, e questo lo devono fare soprattutto le istituzioni locali. In terzo luogo gli obbligazionisti, dove sulla città, anche se è stato fatto un lavoro per recuperare una parte degli obbligazionisti subordinati, su Monte dei Paschi invece sono stati in questo momento tutelati tutti quanti. Quindi credo che occorra un intervento importante da parte dello Stato per equiparare il trattamento dei cittadini e clienti di Banca Etruria rispetto a quelli del Monte dei Paschi. Allo stesso tempo è importante che le autorità e le autonomie locali, quindi i sindaci, il Presidente della provincia, le forze politiche, le categorie economiche, magari inizino a lavorare coralmente su questo tema. Quindi è inutile che ognuno scriva a chi è il Presidente della Repubblica, a chi è il Presidente del Consiglio, a chi è il Segretario della Forza Politica di turno. Credo che forse sarebbe più opportuno che le forze politiche, sociali e soprattutto le istituzioni si uniscono tutte intorno a un tavolo per fare di questa battaglia un vero punto di riferimento per la città. Il Partito Democratico, oltre a lanciare questo appello, si attiverà nei consigli comunali per un ordine del giorno che verrà presentato in tutte le assise consigliari. Chiederemo ai nostri parlamentari e ai parlamentari eletti a derezzo di prendere provvedimenti esclusivamente in virtù di una equiparazione di trattamento tra Banca e Turi e Monte dei Paschi, senza ricordare che il decreto Monte dei Paschi apre di fatto una possibilità in questo senso e soprattutto dobbiamo sapere anche che azionisti e obbligazionisti e clienti di Monte dei Paschi ce ne sono tantissimi anche nella nostra provincia. Quindi questo decreto è un decreto che io saluto positivamente e che dà qualche speranza anche relativamente a Banca e Turi.